Che cosa sono le virtù? Le virtù sono abitudini acquisite che perfezionano i poteri della nostra anima, modo da poter fare ciò che è giusto più facilmente e con maggiore precisione. Suona molto teorico, ma in realtà è molto pratico, e questo è ciò che significa. L'anima umana ha diversi poteri o facoltà. Vi è la facoltà della ragione. Poi c'è la volontà. Abbiamo inoltre una potenza appetitiva che ci aiuta a superare le difficoltà. Si chiama appetito irascibile. E poi abbiamo un potere che ci indirizza ciò che i sensi percepiscono come desiderabile. Si chiama appetito concupiscibile. Che relazione c'è tra questi poteri e le nostre azioni? Beh, la ragione, in questo caso la ragione pratica, pone la domanda che cosa è buono, cosa debbo fare. La volontà, invece, risponderà a quello che la ragione ha percepito come buono, spingendoci verso di esso. L'appetito irascibile si rivolge ai beni difficili, che sono difficili da raggiungere o per i quali alcuni ostacoli devono essere superati, per esempio, buoni voti a scuola. L'appetito concupiscibile ci indirizza a quei beni che sembrano auspicabili ai sensi, perché ci danno piacere, per esempio, una torta. In sé per sé tutti questi poteri e gli appetiti sono buoni, così come le emozioni che sono ad essi collegati, la speranza, il dubbio, il coraggio, la paura, la gioia, la tristezza o avversione. In sé per sé tutte queste cose sono buone, ma è importante che tutte le facoltà dell'anima, insieme con le loro rispettive emozioni, siano ordinate correttamente e dirette dal potere della ragione. Questo ordine si ottiene niente di meno che con la pratica delle virtù. La prudenza è la virtù che perfeziona l'intelletto. Giustizia perfeziona la volontà. Fortezza perfeziona l'appetito irascibile. E la temperanza perfeziona l'appetito concupiscibile. Queste quattro virtù sono chiamate le virtù cardinali, o virtù del principio morale. Essi ci aiutano a raggiungere il nostro fine naturale, e questo è ciò che rende queste virtù così importanti. Ora, come già sappiamo, l'uomo non ha solo un fine naturale, ma un fine soprannaturale, che è la comunione con Dio. E affinché possa raggiungere questo fine soprannaturale altrettanto bene come il suo fine naturale, Dio ci dà virtù aggiuntive che perfezionano i poteri della nostra anima in relazione al loro fine soprannaturale. Prima di tutto, Dio ci dà tre virtù teologali, fede, speranza e carità. La fede perfeziona la ragione, speranza e carità perfezionano la volontà. In secondo luogo, Dio ci dà delle virtù morali infuse che perfezionano ulteriormente le quattro virtù cardinali, morali, per dirigere l'uomo al suo fine soprannaturale. Così riceviamo prudenza, giustizia, fortezza e temperanza, le quali ci aiutano a raggiungere il fine soprannaturale. Le virtù morali naturali sono acquisite attraverso una paziente pratica. Le virtù soprannaturali, d'altra parte, ci sono date da Dio insieme con la grazia santificante che abbiamo ricevuto nel battesimo e che poi sviluppiamo costantemente attraverso gli altri sacramenti. Per riepilogare, le virtù, sia che sono acquisite attraverso la pratica o infuse, perfezionano le facoltà della nostra anima in modi diversi e attraverso le virtù siamo in grado di raggiungere il nostro obiettivo in modo sicuro.